Eeeeeee, benvenuto in questo video di Fortnite Ragazzi, siamo in live su Twitch, stiamo tentando di registrare qualcosa di decente Siamo insieme a Sorin, Valerio e Buonmello Buongiorno Buongiorno, no, su WTC non mi piace, ragazzi, andiamo su T-Towers Ecco, devo votare qualcosa di interessante, almeno deve essere un sottotitolo Scendiamo a Pinnacoli E moriamo tutti Lo devo dire che non è finato Altri due a terra Ok, indagolo per favore ancora una volta, che prendiamo anche l'ultimo L'ho visto, vado a prenderlo Voi fate eh, continuate a fare il vostro giro, ma come su qua Ma cos'è, su qua sta piccolando What? Ma qua lo sto laggando Ma non è che è laggata ma ha tirato Maria Vi state ancora massacrando Mello è morto Non è voluto correre Mello 30 bianco, 29 bianco, 29 bianco Ma trovo, ci sono Brie Ecco il tizio che aveva troppo il pompa di me Madonna, se lì è fatto un infarto Puoi continuare a fadirlo No No È arrivato di ampissimo Venti Venti What? Ma una mano, visto che sono solo in mezzo a 18, me la date? Come il suo morso è morto? Tutti morti? Molte persone che siete Mello la tua scheda Grande Mello Grande, sei morto ma che grande comunque Uh, 5 kg 5 kg anch'io Non si sa come Eh, si direi che il salty towers ce l'abbiamo fatta, vero? Sì Sipotizzo? Comunque Sono appena tirati credo di scagnozzo o qualcuno vuolto esplodere? No, c'è gente, c'è gente, c'è gente No, c'è gente, veramente, ragazzi, c'è gente, non so se lo sanno No, c'è gente No, c'è gente No, c'è gente No, c'è gente Ok Ok Vai andare ancora se ce la fai Con il secondo era sì Sì, sì, vai, 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 che ci facciamo un tempo E poi io devo porra anche col personaggio lì Il personaggio lì non fai il tempo a fallarci Macchina Macchina What? Oh, Peppa Quanto mai mi ha fatto questo No, anche da io No, anche da io Bene Vabbè La prima partita è andata così, ragazzi Sette kill Non era mai commesso male Secondo atterraggio per noi Sì Io voglio tornare a Solty Towers, ragazzi Lo so voi E' da Mello uno Uno è un po' da Mello Vabbè, ma Mello, uno lo gestisci, dai, è vero? No, no, la mia, la mia convinzione Mello lo gestisce uno Ma mi sal... Sono convintissimo Sono convintissimo Sono tre, altro che uno Vabbè, ho detto che uno Non riesce a farlo Non tre Vai, uccidilo Atterrato uno Atterrato un altro Uno craccato Uno craccato dietro Sorin Dietro la casa Gira, gira la casa Un lama Un lama? Che c'è tra lama? Non ho letto di pensare ai lama Sta scappando di là, Sorin Sta scappando di là Ma sto schifoso che è scappato Mannaggia di quella Vabbè Ehm... Eliminate player Ehm... Mamma mia Cattiva è Troppo cattivo Eliminate Da quando l'hanno chiamato Brigis Sei cattivito Io sono molto cattivo Chi riesce a portare Medikit? Ma? Non so se la sua kille Ero in panico Ma che panico sei Ho fatto 140 Ehm... Tutti cosi dicono Tutti cosi dicono Ero in panico Ero in panico Ero in panico No, lo stavo killando Era lì fermo nell'angolo Lui era in panico Ero in panico Uh... Gente? No, dobbiamo proteggere Vabbè, rubito eh Esatto, chi mi spara un po' lì Che devo prenderlo Dai, dai Vai Vai Presa... Va Ma chi sta sparando? Io ho uno Vabbè Ti sei fatto uccidere da uno... No, questo giocava eh Non so se non mi spara un po' lì Non so se non mi spara un po' lì Non so se non mi spara un po' lì Io non ho ancora freddo Vuol dire che è qua dietro eh Ok, uh... Vai Venti blu, venti blu, vai Ora Io sto andando qua Ecco le... Mi voglio prendere l'altezza Laserato uno Laseratissimo quello ragazzi eh E' quasi one hit eh Non so se ne ho in Dai Melo spara, spara lì in mezzo, bravo vengo dov'è che sono? ma c'è che ho avuto malissimo come ho fatto farmi così male? e l'amino nuvole quanto mai mi ha fatto con lo scar? non penso riuscire a farmi non lo so quanti ne avevo? guardate andiamo in safe no vabbè rientro anche lì passo davanti a me dove ti restiamo? qua! qui dove restate? qua se ce la facciamo qua abbiamo me lo avrà un botto in medikit oh l'ho visto l'ho visto sto scappando via tu cadi immediatamente cretinetti what a pity ci sperava un po' imbecille e invece dice noo sei morto un po' 3 contro 1 contro 1 3 contro 1 contro 1 perfetto via eliminato ne manca uno dice Kino dice Kino ci proviamo se lo trovo volentieri non so dove sia albero sei un po' in mezzo alle scatole non vedo niente si sposti ok perfetto abbiamo perso Mello uh che che spara? oh victory royal mamma mia è Mello è esploso è Mello è esploso poveretto quindi ricapitolando 14 kill madonna io ne ho fatto solo 4 14 kill poi abbiamo vediamo un po' Sorin una 15 Valerio 4 19 Mello 2 21 kill ragazzi ci sono fatti 20 bombe beh direi che vi ricordo di commentare se non mi piace con il video iscriviti attivate la campanella e addio grazie per il pesce ciao ragazzi ciao 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 ciao